L'imbucata di Ferrara a tempo più che scaduto cancella il sorriso dalla bocca del Martina che anche quest'oggi deve rimandare il primo successo al Tursi. Superlativa la scuola dei Pizzulli per la prima ora di gioco, poi grosso merito va al Matera che con fame di risultato recupera i due gol di svantaggio e porta a casa un punto vitale per la classifica. Le formazioni, conferma di 4-4-2 per Massimo Pizzulli, scelto amabile in mediana per sostituire all'indisponibile Teio accanto a Cerutti. Ancora torna in fascia dal primo minuto con Pinto sul versante opposto. Novità Tuccitto accanto al Tato Diaz in attacco. Salvatore Ciullo conferma 10 undicesimi del Matera visto contro il Casarano. Out Sgambati ceccuma al suo posto accanto a Vicente Demoleon. Peso dell'attacco su Ferrara e Piccioni. Nel pomeriggio di bel calcio al Tursi non si fanno attendere le emozioni. Passano 120 secondi e Martina Giavanti. Mancini raccoglie dal limite calcia. Pozzer si oppone ma nulla può sulla conseguente fucilata di Sush. 1-0. Nonostante il gol lampo è un primo tempo da sbadilli. La risposta del Matera sta tutta in questa girata in area di Denis Manu. Palla alle stelle. Cambia decisamente la musica nella ripresa. Come in una sorta di déjà vu passano solo 60 secondi ed ecco servito il raddoppio. Sush va al lancio lungo. Gli ha carino liscia ed alle sue spalle e sbuca pinto. Per il numero 23 è un gioco da ragazzi fare 2-0. Film della partita che sembra in archivio ma copione finale cambiano drasticamente. Il primo avviso del Matera arriva al 53esimo. La linea difensiva del Martina viene su male. Piccioni si vuole indisturbato ma calcio addosso a Suma. Ben diversa invece la mira del suo collega di reparto Ferrara al 59esimo. Cross di Cumma, intelligente sponda aerea di Iaccarino a liberare il numero 7 che da due passi riapre la contesa. D'altro canto il Martina prova a venir via dal momento complicato compinto. Il diagonale dell'esterno viene bloccato in due tempi da Pozzer. Il Matera si getta a capofitto in avanti e si aprono praterie per il Martina in contropiede. All'82esimo Manu perde palla da ultimo uomo. Diaz si invola da solo ma si inceppa davanti a Pozzer prima che Cumma completi il disimpegno. Quando la prima vittoria in casa sembra cosa fatta ecco il colpo di coda la partita. Ferrara dal limite sfrutta un'amnesia difensiva biancazzurra per servire Piccioni. Prima conclusione respinta, cross no look mancato da Tigani ma non dallo stesso Ferrara che da due passi fa 2-2. Un tempo per parte ed un risultato che fa più gol al Matera rispetto al Martina che si consola con una classifica decisamente soddisfacente. Settimana prossima Martina discena sul campo dell'imbattuto Nardò. Il Matera chiamato all'esame brindisi. Grazie a tutti.